L'Arta intanto, l'Agenzia per la tutela dell'ambiente, sta effettuando campionamenti lì dove si è manifestato il rogo alla ASM dell'Aquila. Si sta verificando accuratamente se possa esserci la presenza di sostanze inquinanti e nocive. Il direttore dell'Arta, Abruzzo Maurizio Dionizio, ci dice che i risultati potrebbero arrivare entro 48 ore. La situazione è relativa ad un grosso rogo che ha interessato i capannoni industriali dell'ASM di L'Aquila. Siamo stati allertati dai vigili del fuoco alle 4 del mattino e abbiamo immediatamente predisposto una squadra attraverso il nostro laboratorio mobile. Allo Stato abbiamo effettuato campionamenti attraverso il canisterro, ovvero dei priliri di via aria, che sono oggetto di analisi. Nelle prossime ore saremo in grado di dire qualcosa di più preciso. E' possibile sapere in quanto tempo? Dipende dalla metodica analitica. Il benzene probabilmente prima le diossine sarà necessario un apposito campionamento con un metodo particolare e con altrettanti particolari metodiche analitiche. Ovviamente previsioni in questo caso non se ne possono fare. Guardi per l'esperienza che abbiamo in analoghe situazioni, il benzene è sicuro che sarà presente se non altro per la combustione delle grandi quantità di materiali che erano stivati all'interno dei capannoni. Speriamo che si fermi al benzene e non ci siano prodotti di maggiore tossicità. E' opportuno tenere chiusa le finestre nei pressi del nucleo industriale di Bazzano e soprattutto non consumare prodotti agricoli coltivati nelle immediate adiacenze. Si può uscire dalle case senz'altro anche perché abbiamo verificato che il vento ha già in parte disperso il fumo che si è sprigionato dall'incendio, però rimane un odore acre nell'aria. Su questo credo che ci vorrà un altro po' di tempo per una totale dispersione. Direttore, cos'è che preoccupa di più? La diossina è uno degli inquinanti in atmosfera che sulla base degli studi scientifici può creare maggiori effetti tossici con una ricaduta sulla salute umana. Nessun allarmismo ma cautela e soprattutto prudenza e attesa. Questa è la finalità del monitoraggio, una sempre maggiore attenzione sul territorio e questo è il compito di Art Abruzzo ed è un compito che mi sia permesso di dire che i nostri tecnici sanno fare molto bene. Per concludere, dunque, quando potremo saperne di più? Appena i laboratori mi forniranno i dati sarà nostra cura diffonderli con la maggiore celerità possibile. 48 ore? Credo che sia questo il lasso di tempo.